Con questo tutorial vediamo come ricevere e inviare i LAX. I LAX sono la moneta di Lapo Blockchain. La prima cosa che dobbiamo fare è controllare che il nostro portafoglio sia correttamente sincronizzato e dobbiamo andare a vedere che qui in basso la spunta deve essere di colore verde. Per ricevere dei LAX vado nella sezione ricevi. Qui c'è scritto request payment ci clicco sopra e devo andare a copiare questo indirizzo. Questa è una sorta di codice IBAN che dobbiamo dare alla persona che ci deve inviare dei LAX. Posso fare copy address. In questa maniera copio in memoria questo indirizzo e poi posso inviarlo per email, per telegram, per whatsapp. Insomma dobbiamo trovare un modo per dare questo indirizzo alla persona che ci deve inviare i LAX. Chiudo. Vedo qui in basso nella sezione storico che in questa data ho effettuato una richiesta di pagamento. Vedo che qui c'è una sezione etichetta che corrisponde al label, ossia ogni volta che effettuiamo una richiesta di pagamento possiamo aggiungere ad esempio una nota. Potrei ad esempio scrivere mio wallet e poi cliccare richiesta di pagamento. L'indirizzo è cambiato e questa volta ho l'etichetta mio wallet. Potrei copiare di nuovo l'address ed inviare questo indirizzo alla persona che ci deve inviare i LAX. Posso chiudere e vedo qui che ho l'etichetta dove c'è scritto mio wallet. Per ogni richiesta di pagamento potrei o effettuare ogni volta request payment oppure riutilizzare indirizzi che già avevo utilizzato in precedenza. Ad esempio potrei riandare qui, doppio clic e vado a copiare l'address e ricevere un'altra volta dei LAX. Vediamo adesso quello che succede in fase di invio. Torniamo nella sezione di riepilogo e adesso aspettiamo di ricevere dei LAX. Nel momento che la persona ci ha inviato dei LAX vedo qui nella sezione transazioni recenti che in questa data all'indirizzo che avevo chiamato mio wallet sono stati inviati 10 LAX. In questa parte vedo che ho un totale di 10 LAX. Qui vedo che c'è un pending cioè sono in fase di approvazione questi LAX e un totale complessivo di nuovo di 10 LAX. Se vado nella sezione transazioni e vado a cliccare ALL, cioè vedo tutte le transazioni, vedo che c'è una transazione in fase di conferma. Questa transazione diventa effettiva nel momento in cui ho raggiunto 6 conferme. Ora sono arrivato a 2 di 6 conferme e devo aspettare 6 di 6. Nel momento che ho raggiunto se conferme di sicurezza posso notare che qui la sezione pending va a sparire e effettivamente adesso ho a disposizione 10 LAX da poter utilizzare. Vediamo ora come poter inviare dei LAX. Allora vado nella sezione invio. Qui dove c'è scritto pay to devo andare a inserire l'address della persona che deve ricevere i LAX. Qui se volessi dove c'è scritto label posso aggiungere una nota così mi ricordo ad esempio ho inviato dei LAX ad un mio amico. Qui dove c'è scritto amount devo andare a inserire l'importo dei LAX che devo inviare. Devo aver ricevuto l'indirizzo da parte della persona che deve avere questi LAX. Vado qui, tasto destro e incollo. Aggiungo adesso una nota, regalo a Marco tanto per dire. E poi metto l'importo 5 LAX. Ora clicco invio. Mi appare una schermata di sblocco portafoglio. Ricordo che avevo bloccato per ragioni di sicurezza il mio portafoglio. In questa maniera ho il controllo totale di tutte le operazioni sensibili che avvengono sul portafoglio di Lapo Blockchain. Quindi la prima cosa che devo fare è sbloccare il mio wallet. Ok. E adesso sono pronto per l'invio. Mi dice sei sicuro di voler inviare 5 LAX come regalo a Marco che è l'etichetta che avevo inserito a questo address? Devo essere sicuro che l'address sia corretto perché altrimenti questi LAX andranno perduti. Inoltre mi viene messa in evidenza di colore rosso le fee, ossia le commissioni che devo pagare per effettuare questo invio di LAX. Controllo che sia tutto a posto e poi clicco Yes. Se vado nella sezione di riepilogo vedo che qui c'è scritto regalo a Marco effettuato in questa data e gli ho inviato 5 LAX. Nella sezione transazioni rivedo quello che sta accadendo. In questa data ho inviato a Marco 5 LAX con le commissioni incluse. Se faccio doppio clic vedo i dettagli della transazione. Osservo che lo stato ancora non è confermato, cioè deve ricevere ulteriori conferme. Mi dice la data e mi rimette in evidenza l'indirizzo a cui ho spedito questi 5 LAX. Mi dice quanto ho inviato 5 LAX più le commissioni e qui mi dà il totale dei soldi che ho inviato più le commissioni. Clicco chiudi. Posso vedere che sono arrivato a 3 conferme di 6 e quando sono arrivato a 6 di 6 conferme la transazione può considerarsi conclusa. Ricordo che qualunque transazione che si effettua all'interno di una blockchain e in particolare all'interno di Lapo non la posso revocare in nessun modo. Ritorno nella sezione di riepilogo, controllo che il mio portafoglio sia di nuovo bloccato e quindi clicco qui blocca portafoglio. In questo modo ho rimesso al sicuro il mio portafoglio ed ho terminato l'operazione di invio. E con questo termino il tutorial su come poter ricevere e inviare dei LAX.